La circoscrizione Prato Centro organizza anche quest'anno una serie di incontri dedicati ai cittadini residenti e ai commercianti sul proprio territorio. Quindi le nostre piazze, le nostre strade, le nostre chiese, i luoghi più belli della città saranno a disposizione di tutti per incontrarsi e poter festeggiare così il Natale, le feste e anche il nuovo anno. Il nuovo anno che sarà appunto festeggiato in una delle nostre piazze più belle assieme all'amministrazione comunale.